Si è tenuto oggi in provincia un'importante conferenza stampa con tutti i sindaci. Abbiamo parlato della situazione che stiamo vivendo in questo momento, dove c'è il caro energia e il caro gas. Il governo deve insediarsi immediatamente e provvedere a mettere mano, a trovare delle soluzioni, perché non è possibile che a pagare devono essere sempre le famiglie e devono essere le imprese. Ci sono imprese che sono a rischio di chiusura da domani mattina. Pertanto chiediamo, e quindi è un appello al governo, di mettere mano a quelle che sono tutte le iniziative per tranquillizzare le imprese e le famiglie. Non è possibile che dopo una pandemia affrontiamo un'ultima emergenza e a pagare ne devono essere sempre i soldi, i comuni, le famiglie e le imprese. Pertanto oggi questa conferenza stampa, nonostante che personalmente ho la festa dei santi patroni, ho dovuto lasciare la festa perché il momento è delicato. Quindi bisogna essere al fianco delle famiglie e dell'impresa.